Vigilia carica abbastanza di tensione per Simone Inzaghi, ha detto che la squadra è arrabbiata, non vede l'ora di scendere in campo. Un sali e scendi che abbiamo purtroppo visto troppe volte in questa stagione, grandi prestazioni poi partite da dimenticare. Rammarico che se l'Inter non avesse colto solo due pareggi contro Monza, Empoli, Sampdoria e Bologna, con dieci punti in più, sarebbe vincendo contro Lecce a meno 5 dal Napoli. A giocarsi lo scudetto nonostante tutte le sconfitte della prima parte di stagione, nonostante tutto l'Inter avrebbe comunque potuto battersela per lo scudetto, ma purtroppo non è così, a meno di un crollo incredibile che avrebbe del clamoroso del Napoli, ma credo che sia logicamente impossibile che già dopo il passo falso con la Lazio gli spallettiani si riprendano. Dicevamo ancora senza conferenza stampa, ha parlato, ha risposto brevemente alle domande che gli abbiamo fatto arrivare. La mia era quella sul distacco, se è reale, se l'Inter merita quel distacco lì, che è rammarico più grande a Inzaghi in questa stagione, e ci ha tenuto però a sottolineare quanto di buono ha fatto nei suoi 18 mesi. In Nerazzurro chiaramente un distacco pesantissimo, importante, ma più che il distacco, secondo me la cosa preoccupante è questo continuare tra alti e bassi alla ricerca di una continuità che sembra veramente questa sconosciuta. Dzeko in vantaggio su Lukaku per un'esclusione che ne parlavamo già stamattina, sarebbe clamorosa e comunque non aiuterebbe in alcun modo Lukaku a riprendersi, a ritrovarsi e a diventare una qualcosa di importante per la stagione dell'Inter. Anche Brozbic rischia di star fuori e dovrebbe giocare ancora Mkhitaryan, dubbi che deciderà l'ultimo Simone Inzaghi con Barella e Cialanoglu sicuri del posto, Di Marco potrebbe recuperare per la panchina, a destra dovrebbe esserci ancora Dumfries, a sinistra Gosens, in difesa non ce la fa Skriniar, ancora Darmian con Acerbi e Bastoni davanti a Onana e poi davanti abbiamo detto Lautaro e Dzeko, no meglio stare col sole alle spalle. Questa dunque è la situazione, partita da vincere assolutamente, non sono più permessi passi falsi, la Lazio ha superato l'Inter con la vittoria sul Napoli, senza la penalizzazione anche la Juve avrebbe più punti, non si può più sbagliare nulla e bisogna trovare una regolarità soprattutto in trasferta già da venerdì prossimo e poi soprattutto a Porto, in Portogallo, il 14 di marzo si gioca per la storia, proprio anche in vista, in previsione di quella sfida lì credo che l'Inter debba cercare di recuperare il miglior Lukaku per quella gara lì, quindi non capisco perché tenerlo fuori invece quando dovrebbe giocare più minuti possibili. Aspettiamo, vediamo, intanto cerchiamo di capire dove nasce, nascerà, se verrà confermato il nuovo stadio dell'Inter al confine tra Assago e Rozzano. Vedete, praticamente è la zona proprio adiacente alla tangenziale, lì c'è proprio l'uscita Assago-Milano-Fiori, anche se poi il terreno dove dovrebbe nascere lo stadio dell'Inter è praticamente tutto sul comune di Rozzano. Allora, siamo in un luogo un po' insolito, vedete alle mie spalle il forum di Assago, campo dell'Olimpia-Milano, la squadra più prestigiosa di basket italiana, qui c'è la fermata della metropolitana, il capolinea Assago-Forum-Milano-Fiori della M2, la linea verde, e in fondo di là, a 800 metri in linea d'aria, c'è la zona al confine tra il comune di Assago e di Rozzano, in cui dovrebbe sorgere il piano B, che sta diventando sempre più piano A, dello stadio dell'Inter, in solitaria. Un progetto sul terreno che appartiene alla famiglia di costruttori Cabassi, che secondo il Corriere della Sera è già stato siglato nel 2022, che adesso andiamo a approfondire insieme a voi in una vigilia di interlecce speciale con questo approfondimento dello stadio, proprio per cercare anche a chi non è di Milano e a chi spara cialtronate da mattina a sera e non sa neanche di quello di cui sta parlando, quello che è il progetto e soprattutto la zona in cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio dell'Inter, qui al confine periferia sud-ovest di Milano, Assago, confine con Rozzano. È tutta una zona così, completamente in disuso, abbandonata, al confine tra Rozzano e Assago e praticamente adiacente alla tangenziale e all'autostrada poi Milano-Genova. L'aria però è oltre, quindi adesso andiamo oltre il ponte della tangenziale e vediamo se riusciamo a farvi vedere tutto il terreno dove dovrebbe sorgere lo stadio dell'Inter. Io poi ti faccio qualsiasi cosa non è un problema, però con noi siamo... Vedete, proprio al confine tra Rozzano e Assago. E lì inizia Assago. Tutto centrodirezionale, uffici e poi quelle aree in disuso che vi abbiamo mostrato precedentemente. qui c'è il naviglio e qui... i terreni che dovrebbero essere adibiti alla costruzione del nuovo stadio. con i silos abbandonati. Vedete? Eccoli qua. Zoomiamo. ormai l'ario Capriglione, ex consigliere comunale a Rozzano, ci fa vedere dove dovrebbe essere. Credo che l'aria sia questa che vada dal comune di Assago e prende tutta questa zona qui che arriva fino al comune di Rozzano. Sì. E questa credo, se non sbaglio, ma credo di non sbagliare, che è la cosiddetta... Aria Cabassi. Aria Cabassi. Aria Cabassi. Perché penso, credo che i proprietari di questo terreno fossero la famiglia Cabassi. No, sono ancora. Quando io ero consigliere comunale c'è stato anche un progetto per poter fare un grande centro commerciale che prendeva sempre quest'aria qui che andava dal comune di Assago al comune di Rozzano. Poi non se ne è fatto più nulla, non so... E questo è proprio il confine tra i due comuni? Qui, allora, fino a quest'aria qui, a questa linea qui, credo che sia ancora comune di Assago. Perché la strada, quella lì, qui è comune di Rozzano. Ok. Ma dall'altro ponte, come vede, il ponte che va da lì verso Mileno è comune di Assago. Ok. Quindi le aree, i comuni sono delimitati. Ok. E quindi finisce il comune di Assago e comincia quello di Rozzano. Ok. Quindi su quest'aria qui, ripeto, c'era un progetto, un tempo per un centro commerciale che poi non è nato più. E cosa diventa uno stadio? Da cittadino sarebbe un bene, un male? Allora, sotto l'aspetto... io abito qui, abito a Vallambrosia che è una frazione di Rozzano. Sotto l'aspetto della crescita del territorio, sotto l'aspetto della modernizzazione della zona, potrebbe essere un grossissimo vantaggio per l'aria. Chiaramente il rovescio della medaglia quale potrebbe essere? Che qui verrebbe fuori uno stadio con sicuramente un parcheggio importante e quindi da dove arriverebbero poi i tifosi o da lì o da qui. E la viabilità non sarebbe un problema. Anche perché tenga conto che questa strada qui, c'è la provinciale, la SS Pavese, che arriva fino a Pavia, è comunque quasi sempre trafficata. Anzi, togliamo quasi. Immaginiamo durante una partita di cartello. Durante una partita di calcio sarebbe... E in più, quanta distanza c'è dal forum di Assago dove c'è il basket? In linea d'aria da qui saranno meno di un chilometro. Con la strada saranno massimo un chilometro e mezzo. E dalla metropolitana? A Sago. Dieci minuti a piedi? A piedi anche un quarto d'ora. Quindi la metropolitana potrebbe far arrivare dei tifosi che arriverebbero sull'aria un quarto d'ora e venti minuti. È vero che di là ci sono anche altri parcheggi che potrebbero essere... Cioè i parcheggi legati all'area del forum di Assago. Ma tenga conto che se capita una partita dell'Olimpia Milano e capita una partita in casa dell'Inter, significa questa zona... Non si può più circolare. Eh no, certo. Perché sarebbero tutti i tifosi della palacanestro e i tifosi del calcio. Quindi, favorevole o contrario? Allora, sono molto combattuto. Sotto l'aspetto della crescita del territorio sicuramente favorevole. Sotto l'aspetto dei disagi per i cittadini, contrario. Ok. Però tenga conto che, ripeto, la cosa che devono tenere conto, se decidessero mai di fare una cosa del genere, è che la Pavese, se capita ancora ancora di domenica, la partita domenica pomeriggio o domenica sera, ce la giochiamo intesa come traffico. Ma questa strada qui, il sabato pomeriggio, il sabato sera, è off-limits, significherebbe far partire una coda che partirebbe dalla Chiesa Rossa di Milano, o forse anche prima, da via Scania Sforza e arriverebbe fino all'entrata dello stadio. Ok. Allora, qui vediamo proprio l'infinita distesa di terreno che va fino poi ad Assago. Allora, oltre lì, oltre quelle torri lì... Che sono dei silos abbandonati? Sono dei silos abbandonati. Dall'altro lato, in fondo, c'è il forum da Assago. Ma ripeto, a linea d'aria sarà meno di un chilometro, abbondantemente meno di un chilometro. Per la viabilità ordinaria, che sono la strada che arriva al forum, dal Ponticello lì sarà un chilometro, un chilometro e mezzo. Ma a linea d'aria da qua saranno 800 metri, forse, no, 800-900 metri. E c'è tutta quest'area che è inutilizzata. Ormai è inutilizzata. Quindi per questo sarebbe un bene riqualificare... Sotto l'aspetto della riqualificazione del territorio, come vi spiegavo prima, sarebbe un vantaggio enorme. Anche perché, presumo, che la costruzione di uno stadio, poi, abbia degli oneri di urbanizzazione che potrebbero essere strade più belle, tutta una rete fognaria nuova, che potrebbero essere, non so, in prossimità dello stadio, adesso con la mentalità degli Stati europei, mondiali, non so, dei centri commerciali a fianco che potrebbero essere dei negozi belli, dei ristoranti attaccati. Quindi la crescita del territorio ne gioverebbe tantissimo. Il problema è la viabilità. Perché se questa crescita, poi, finisce, ed è una crescita sterile che finisce lì per lì, cioè farebbero il bene soltanto degli operatori del settore, allora è il cittadino che ci guadagna. Il cittadino ci guadagna. Se invece è una crescita che può far star bene l'intero territorio, non so, o hanno le urbanizzazioni che potrebbero fare le strade più belle e più larghe, delle piste ciclabili meravigliose, cose di questo tipo, allora avrebbe un senso perché è vero che io vado a subire il traffico e vado a subire l'impatto ambientale, ma dall'altro canto ci guadagno perché è un territorio più bello. Ok, la ringraziamo molto. Arrivederci. Grazie.